Sì, rammarico, rammarico sì, perché comunque alla fine secondo me abbiamo fatto qualcosa in più di loro, soprattutto nella seconda parte. La prima parte è stata equilibrata, perché comunque abbiamo avuto occasione di noi, anche loro, il paro con l'Atanzio. Partita molto equilibrata, il primo tempo, il secondo tempo abbiamo dominato, abbiamo preso un tiro in porta, abbiamo avuto due o tre occasioni, non le abbiamo sfruttate. Va bene, ma un po' siamo dispiaciuti perché nel secondo tempo abbiamo creato qualcosina in più rispetto a loro e quindi potevamo portare a casa anche l'intera posta in palio. Bicchiere e mezzo vuoto o mezzo pieno, dopo lo 0-0 casalingo contro il Barletta, l'interrogativo in casa team Altamura resta di attualità. Lo evidenziano l'allenatore Ciro Ginestra e il difensore Vito Lacassia. Al D'Angelo i Murgiani hanno ottenuto il settimo risultato utile di fila in un girone H, estremamente equilibrato. Anche quando all'inizio non venivano i risultati, ma la squadra le prestazioni le ha sempre fatte di assoluto livello. Poi è facile parlare a volte, ma dall'altra parte ci sono le squadre forti, perché il Barletta, è vero che Farina dice che si deve salvare, ma a 25 punti la vedo dura che si deve salvare. Non è stata una squadra forte e noi abbiamo dimostrato che anche con le squadre forti il secondo tempo, non lo so, aiutatemi voi, non ho visto mai passare la metà campo, abbiamo dominato la partita. Il primo tempo è stato molto equilibrato, quindi per me la mia squadra se la può giocare con tutti. Meno uno dal quarto posto, meno due dal podio, meno sei dalla cavese capolista sono i limiti che l'Altamura è chiamata a oltrepassare in questo campionato. Ginestra si gode un gruppo che ha ottenuto 13 punti nelle ultime sette giornate e fissa l'obiettivo. Noi siamo a due punti dal terzo posto e ci sono sette squadre che sono tutte forti, tutte di livello e tutte vogliono vincere. E' per quello che io dico, io voglio vincere, lo dichiaro pubblicamente, io sono venuto qua per vincere, è normale che poi se ci riesco bene, ma se non ci riesco ci devo andare vicino. Il nostro obiettivo è giocarcela con tutti, partita dopo partita, non guardando ora la classifica perché sarebbe inutile e cercare di arrivare più in alto possibile. Prossima tappa a Fasano, domenica per Croce e compagni, sarà tempo di sfidare il team di Ivan Tisci che condivide il quarto posto con Brindisi e Casarano. Di fronte, un avversario reduce dalla sconfitta sul campo della Nocerina. Sarà sicuramente difficile perché il Fasano è allenato ottimamente da Ivan Tisci che conosco bene, la squadra che gioca bene. Il campionato è difficile, giocate le partite prima perché vanno giocate, perché sono tutte difficili e andremo a Fasano per fare il nostro calcio. Noi veniamo da due pareggi e cercheremo in tutti i modi di portare a casa la vittoria, sperando di riuscirci perché è molto importante per il proseguo del nostro campionato.